ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a fare il video del nostro nuovo liquido vai birillo e spuori il cielo allora siamo andati dai pirati e gli abbiamo rubato il lingotto d'oro un liquido della super tanta roba why not eccolo qui nel lingotto d'oro una squisitezza ora andremo a fare la recensione di questo liquidozzo che sarebbe un babà a rum ragazzi non si scherza qui qua siamo su una linea di cremosi allucinante allora la boccetta bella dorata anche lei per farsi vedere già b per farsi notare anche legate se andò a porto in giro che devi qui cosa sta svappando l'oro allora ora andremo a fare la prova di questo liquido che è 20 ml di aroma ci va aggiunto 30 ml di baseta chi ci vuole la nicotina una basita 10 lo trasforma a 3 e chi ci vuole a zero un'altra baseta di ultima da 10 e diventa 60 ml di liquidozzo pronto preso da fare un 70 30 vai gabri fa la prova la proverò sulla mac pro del druga io sono daniel kennedy per sentire bene l'aroma ci sente molto bene il liquidozzo che adesso sta andando abbastanza della super flower tanta roba ricordiamo preso dal svappo caffè marina di carrara moliciara della spezia andatela a trovare grande crema buono il rumo e poi senti il sapore del papa tanta roba buonissimi a me piacciono cremosi questo è davvero buono perché ti rimane proprio il gusto in bocca a me si è mangiato un po' una linea che fa veramente dei liquidi spettacolari che voto ci dai gabbia questo liquidozzo un otto e mezzo io ci do anch'io otto e mezzo mi piace solo merita se lo merita tutto allora dalla tabella dello svappo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo una pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare ciao